Ciao a tutti, oggi prepareremo i plum cake tipo mulino bianco. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, yogurt, zucchero semolato, uova, olio di semi di girasole, burro morbido, vanillina, sale e lievito per dolci. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le uova, la vanillina ed azioniamo il bimbi per 5 minuti a velocità 6. Aggiungiamo il bimbi per 40 secondi a velocità 6. Aggiungiamo lo yogurt, la farina, l'olio, il sale e il lievito ed azioniamo il bimbi per 1 minuto a velocità 6. Il composto è pronto, versiamolo negli stampini da plum cake. Cuocere in forno prediscaldato statico a 160 gradi per 30 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. I plum cake sono pronti, lasciamoli raffreddare prima di rimuoverli dallo stampo. Plum cake tipo mulino bianco. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!